DUDO пришete evil Enalyق Cotto e frullato a bomba night show la maratona cinematografica di tutti gli episodi della serie frullata con il possente rock dei voodoo, tante sorprese dal vivo con tutti i protagonisti ed in anteprima assoluta l'esaltante, sconvolgente, devastante capitolo finale di Cotto e Frullato. Tutte le informazioni le trovate nella descrizione qua sotto e tutti gli aggiornamenti sulla nostra pagina Facebook. Frullomani, spargete la voce. 13 dicembre, ore 20, al Cinemario Sto a Milano. Prenotate adesso il vostro posto. Versione per coloro che non conoscono sufficientemente bene la lingua inglese. In un mondo dove frullare è tutto. Quant'è che non mangi più cibi sfaldi? 17 anni. Un uomo deve lottare per la sua vita. Ti presento Dodo. Contro il blu e ferato dei nemici. Non perdere l'episodio finale di Cotto e Frullato. Venendo presto. ra per la sua vita.